Promuovere le libertà digitali è un'inedita consapevolezza degli strumenti informatici all'interno delle scuole. È questo l'obiettivo di Libre Italia, associazione attiva a livello nazionale per la diffusione della suite d'ufficio open source LibreOffice e del software libero. Proprio per valorizzare tali risorse all'interno degli istituti superiori e per coinvolgere studenti e insegnanti nel dibattito, gli aspetti dell'organizzazione sono stati al centro di un incontro organizzato presso il Policampus di Sondrio dall'Istituto Tecnico ITIS e Nea Mattei. Tanti temi trattati legati al mondo del digitale, che si smarca sempre più dalle piattaforme tradizionali per aprire nuovi scenari in una realtà in costante trasformazione. Si sono aperti gli occhi su tantissime prospettive che si possono avere utilizzando il software libero, che non vuol dire necessariamente gratuito, ma vuol dire un grosso risparmio comunque per tutta la pubblica amministrazione, che altrimenti è costretta continuamente ad acquisire licenze e a spendere i soldi che poi sono anche miei, i soldi della comunità, perché poi si dice che non bastano i soldi per finanziare strutturazione delle scuole, visto che si spendono per finanziare Microsoft o Apple o altre aziende proprietarie. Quindi utilizzando invece il software libero, già basterebbe utilizzare semplicemente LibreOffice a posto di Microsoft Office e si risparmerebbero 200 euro minimo per macchina, quindi immaginate quanti computer ci sono nelle scuole italiane, ed è di questo che si sta dibattendo adesso insieme agli studenti, che ho visto veramente molto molto interessati alla questione. Spero che lo siano altrettanto anche gli insegnanti e soprattutto il Ministero della Pubblica Istruzione. In questa giornata abbiamo cercato anche di mostrare agli studenti le varie alternative che sono messe a disposizione dal mondo del software libero. Un mondo che non mette a disposizione soltanto applicazioni che magari possono sembrare di valore inferiore, di qualità inferiore, ma che in realtà permettono agli studenti di lavorare in sintonia con gli altri, di condividere la propria conoscenza e quindi di crescere e di prepararsi quindi in un modo migliore anche per quella che sarà poi la futura vita professionale degli studenti stessi. Siamo venuti oggi a portare le nostre esperienze, le nostre buone pratiche che abbiamo applicato dalle nostre parti e in condivisione con altre associazioni, oltre che con Libra Italia, a livello di lug locali per rendere aperta, libera e con strumenti open la scuola. Abbiamo presentato come stiamo portando avanti un progetto che semplifica l'utilizzo del software libero di Linux all'interno delle scuole ed aiuta anche personale non tecnico, che è un'esigenza abbastanza forte nelle realtà degli istituti comprensivi, a gestire in autonomia e in maniera sicura un laboratorio e la scuola con strumenti open e con Linux.